Camilla Mangiapelo Riccardo Gismondi è stato un tronista di Uomini e Donne un paio d'anni fa. Indeciso tra Martina e Camilla, alla fine così all'improvviso durante una puntata normale del programma Riccardo ha baciato Camilla Mangiapelo, e ha confessato di volere solo lei. La storia tra i due, è andata avanti a gonfie vele come è stato dimostrato sui social fino a poco tempo fa. Riccardo e Camilla, la coppia in crisi.Qualche settimana fa, la coppia ha iniziato a non apparire più sui social, e i loro followers si sono preoccupati. I diretti interessati non si sono voluti sbilanciare molto.Riccardo ha chiesto a chi li segue di avere rispetto, mentre Camilla ha parlato di un momento difficile. I due si sono evidentemente allontanati. Pochi giorni fa, tuttavia, ci sono state nuove dichiarazioni di Camilla. Camilla Mangiapelo. Se sto ancora con Riccardo. La risposta è chiara e semplice. Come spesso accade, gli utenti social hanno riempito di domande sia Riccardo che Camilla. Curiosi di saperne di più su questa crisi che li ha coinvolti. Da parte loro nessuna dichiarazione fino a una risposta molto diretta.Una follower ha posto una domanda precisa a caratteri maiuscoli a Camilla. Ma stai ancora con Riccardo sì o no? La domanda è semplice. A questo punto la ragazza ha risposto personalmente. La risposta è altrettanto semplice e chiara, sì.Aperte virgolette. La coppia ha superato la crisi. Li rivedremo ospiti da Maria De Filippi a uomini e donne. . . . . . .